Ha detto una cosa perfetta Manolas ragazzi, ha appena detto una cosa perfetta Manolas Oggi abbiamo vinto grazie al nostro pubblico 60.000 cuori giallorossi ragazzi a tifare per la Roma nonostante il risultato dell'andata 60.000 cuori giallorossi a gridare Roma 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 dall'inizio alla fine ragazzi Il dodicesimo uomo in campo, se oggi la Roma ha giocato come ha giocato Non è soltanto grazie ad una preparazione perfetta della partita da parte di Francesco Ma anche al dodicesimo uomo in campo, ha detto una cosa giustissima Manolas Ma intanto introduzione Bentornati ragazzi, sono Giovanni E oggi sono qui per parlarvi del ritorno dei quarti di finale di Champions League Ragazzi, Roma-Barcellona appena conclusasi con il risultato incredibile di 3-0 per la Roma Che quindi va in semifinale di Champions League dopo decenni E il Barcellona viene eliminato Questo è un risultato ragazzi che io non mi sarei mai aspettato Non mi sarei mai aspettato davvero che la Roma riuscisse incredibilmente a vincere 3-0 Doveva vincere 3-0 E ha vinto 3-0 ragazzi La Roma vince 3-0 Sblocca il risultato dopo 6 minuti con Dzeko Colpevole anche una difesa molto poco organizzata del Barcellona Nel secondo tempo calcio di rigore sacrosanto dato alla Roma Trasformato successivamente da De Rossi E poi il 3-0 che ha fatto esplodere l'Olimpico Davvero tremava la videocamera Da quello che ho visto Di Manolas su calcio d'angolo Una partita perfetta da parte della Roma Intensità altissima Sono andati a 150 all'ora dal primo minuto Fino al novantatresimo Io mi aspettavo per esempio che al settantesimo Diciamo la Roma cedesse sotto l'aspetto fisico E ciò non è successo Ciò non è successo E' anche questo che ha contribuito diciamo Alla vittoria finale dei giallorossi Io che cosa posso dire ragazzi? Io godo Io un pochino godo È vero stiamo parlando della Roma Ma un pochino godo A parte che i laziali sono gemellati con i tifosi del Real Madrid Come mi ha ricordato mio fratello alcuni giorni fa Quindi godo ancora di più Però vedere una vittoria così da parte di un'italiana Vedere una vittoria così Una vittoria così ragazzi Una vittoria così da parte di un'italiana Mi rende davvero felice Mi rende davvero felice Con la speranza che anche la Juventus Possa fare lo stesso a Madrid E con la speranza che la Lazio appunto Riesca a passare il turno contro il Salisburgo La partita del Bernabeu sarà Sarà un pochino più complicata Per la Juventus Perché il Real Madrid è molto più forte del Barcellona Ma proprio molto più forte del Barcellona Sotto ogni aspetto Il Barcellona oggi non è entrato in campo Anche grazie all'atteggiamento Secondo me stratosferico Dei ragazzi di Francesco Però il Barcellona oggi si è svegliata Soltanto dopo il 3-0 Cioè Si è svegliata soltanto dopo il 3-0 Quindi Non so cosa posso dire Tra l'altro i cambi non sfruttati Da parte di Valverde Come si chiama Valverde? Si che ha messo Dembélé Soltanto dopo il 3-0 Ha messo Andre Gomez Soltanto dopo il 3-0 Ma che cosa ti frulla per quella testa? Che cosa stai facendo? Pensavi veramente di andare a Roma? Di andare a Roma E poter giocare una partita simile? Davvero? Ragazzi la Roma ha meritato la qualificazione Ha meritato la qualificazione Perché Perché il Barcellona ha fatto poco e niente Tra andata e ritorno Ha fatto tutto la Roma ragazzi Buttandosi la palla dentro Facendo assist ai giocatori del Barcellona Come Come Gonalons E E anche oggi ha giocato nettamente Nettamente in maniera superiore ragazzi Nettamente in maniera superiore Quindi grande Roma Grandissima Roma Ma come ha detto Manolas Pochi minuti fa ragazzi Il dodicesimo uomo in campo Il dodicesimo uomo in campo È stato più decisivo del gol di Manolas Ovvero I tifosi della Roma Un olimpico Quasi pieno ragazzi Un olimpico quasi pieno Che mi ha messo i brividi E E niente ragazzi Ditemi voi che cosa ne pensate Nei commenti di Roma-Barcellona La Roma in semifinale Il Liverpool in semifinale di Champions Adesso non ho visto il risultato Però stavano 1-1 al sessantesimo Quindi credo proprio che Liverpool Sia Sia riuscito Diciamo a battere In Manchester City Come vi avevo detto Alcuni video fa E niente ragazzi Iscrivetevi al canale Se per caso Non l'avete ancora fatto Noi ci vediamo Nei prossimi video Ciao 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 Ciao